Sono in punto di morte. Mi restano meno di sei mesi. Un'offerta difficile da rifiutare. Vi garantiamo un corpo completamente nuovo. Geneticamente modificato per essere perfetto. Quando la scienza gioca a fare Dio. Credevo che fossi morto! Non c'è né scienza né progresso senza sacrificio. Che cosa abbiamo fatto? Selfless. Dal 10 settembre al cinema.